Oggi siamo a Milano, abbiamo utilizzato lo store locator di Galatea per trovare la gelateria Oliva in piazzale Aquileia. Siamo qui per scoprire come si realizza un gelato artigianale naturale di qualità basato su un'attenta selezione delle materie prime in piena trasparenza. Infatti Oliva è un'eccellenza che utilizza gli ingredienti per la gelateria artigianale dell'azienda Galatea. Pensate che in Italia ogni persona consuma in media 6 kg di gelato all'anno e che ne abbiamo prodotti quasi 600 milioni di kg solo nel 2018. Siamo dunque il produttore numero uno di gelato in Europa, anche grazie a gelaterie come Oliva che risponde alle esigenze dei consumatori affidandosi ai prodotti di Galatea. Oggi siamo qui per scoprire come si realizza un prodotto di qualità e soprattutto per mangiare un sacco di gelato. Venite! Ciao, piacere, Mara di Laifi. Nicoletta, piacere, benvenuta. Cosa posso offrirti? C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Iniziamo da una delle vostre specialità. Certo, posso offrirti le classiche creme, i sorvetti alla frutta fresca oppure i gusti che ci contraddistinguono, il puro nero e lo spirulino. Per produrre i nostri gelati utilizziamo prodotti Galatea della linea libera che hanno un'etichetta pulita completa. Sono tutti prodotti ottenuti senza coloranti artificiali, aromi artificiali, emulsionanti, additivi, OGM e olio di palma. Le materie prime sono completamente naturali e sono selezionate all'origine. Questo ci permette di garantire ai nostri clienti un prodotto 100% naturale. Beh, complimenti. Sulla bontà dei vostri prodotti comunque non avevamo dubbi. Ma siamo venuti qui perché quello che ci ha colpiti è la vostra storia e il vostro spirito. Come nasce la gelateria Olivia? Sì, Mara, io e il mio socio Davide, a brevissimo mio marito, abbiamo lasciato entrambi il nostro lavoro da dipendenti per aprire un'attività tutta nostra. Olivia Gelato nasce da un'innata passione per questo lavoro e ci è stata sin da subito una sinergia esemplare, senza alcun compromesso, per arrivare a un obiettivo comune. Siamo fieri di noi e sapete perché? Dalla preparazione al servizio di vendita noi ci mettiamo il cuore e questi nostri clienti l'hanno capito. I complimenti sono all'ordine del giorno e gli apprezzamenti arrivano soprattutto da quelle persone che sono attenti alla qualità degli ingredienti. Se non ci conoscono ci chiedono la lista ingredienti che noi con orgoglio mettiamo a loro disposizione. È davvero una bellissima storia, ma torniamo a uno degli aspetti tecnici del vostro gelato. So che utilizzate un prodotto speciale che si chiama Dolce Fibra. Cos'è e quali sono i suoi vantaggi? Allora, vedi Mara, questo nuovo prodotto Galatea ci permette di ridurre il quantitativo di zuccheri nel nostro gelato. Li produciamo senza fare ricorso a dolcificanti artificiali, ma utilizzando le fibre. Dolce Fibra è un mix di fibre vegetali in forma liquida. Una scelta completamente naturale a tutela della salute dei nostri clienti. Un'altra nota positiva è che qui posso portare la mia migliore amica, golosissima peraltro di dolci, che ha recentemente scoperto di essere intollerante al lattosio. So che realizzate anche gusti vegani. Assolutamente. Chi si rivolge a prodotti vegani per scelta etica o nutrizionale lo fa senza perdere di vista il gusto. Noi siamo riusciti a venire incontro a questa nuova tendenza di mercato, che va sempre più verso la ricerca di prodotti salutari, grazie ad una vera certificazione. Cosa si intende per una vera certificazione? Vale a dire un ente esterno a monte che certifica e garantisce per gli ingredienti utilizzati, quindi non semplici attestazioni, come il puro nero ad esempio. Il cioccolato fondente vegano ricco di cioccolato, ma per davvero. Buonissimo. Mi spiace che non possiate assaggiarlo anche voi. Anche oggi i ragazzi dell'azienda agricola sono arrivati con i mertigli. Ah, bene. Ciao, sono Mara di Life. Ciao Davide. Ti va di vedere il nostro laboratorio? Certamente. Andiamo. Davide, come realizzate qui il vostro gelato? Guarda, qua noi usiamo tutti gli ingredienti nobili, che sono il latte fresco, panna fresca e frutta fresca. Dopo un'attenta miscelazione e una sapiente pasteurizzazione e tantissimo amore, mettiamo tutto in macchina e voilà, il gelato è pronto. Non, non voglio quello. Ottima scelta, gusto buffo? No, anche lo spiraflatensis, l'abbiamo studiata appena oggi a sua Ah, perdona l'ignoranza, ma ce l'ha un nome per gli amici questo gelato? Per gli amici è l'antia spirulina, vecchia come il mondo Mara, devi sapere che l'assunzione di spirulina ha origini molto antiche Oggi è usato per lo più come integratore alimentare, colorante, probiotico e ingrediente funzionale Siete troppo bravi, dovrei lasciare a voi il mio lavoro Grazie Nicoletta, ma qual è il vero segreto di un buon gelato? Servirlo sempre con un sorriso